bella a tutti i ghost e bentornati da luca 7392 ragazzi bentornati sul canale ed eccoci nuovamente su gotragon wildlands già sto alla missione ragazzi mi trovo nella provincia di come si chiama che non mi ricordo provincia di oro di okoro si sono la provincia di okoro selezioniamo la missione eccola qua cucinando con la coca il cartello a un laboratorio per la pasta di coca in un impianto di lavorazione del pesce okoro trovatelo e distruggetelo ok la vedo molto ardua questa missione ragazzi cioè i pallini rossi sarebbero tutti nemici guardate quanti cazzo sono porca puttana cioè sono un'infinità saranno tipo 20 30 nemici non so come fotterli devo giocare totalmente totalmente stealth veramente in maniera tattica devo pianificare ogni cosa comunque proviamoci vi ricordo che gioco su playstation 4 pro e sto giocando a difficoltà estrema la massima difficoltà del gioco ci avviciniamo al bersaglio prepariamoci dobbiamo entrare e distruggere i tini per le miscele e i forni senza quelli il posto rimarrà chiuso per me sì allora prima di tutto devo capire da dove posso infiltrarmi allora mettiamo tutti da ceppino qua ce ne sono due cazzo mi stanno vedendo sono in due facciamogli passare ok di nuovo direi di fargli fare fuori alla mia squadra migliore bersaglio acquisito in attesa un attimo vado in posizione i colpi sincronizzati sono veramente bellissimi ragazzi però se ci vedete sono un po surreali perché da qualsiasi distanza i tuoi nemici in un secondo cioè volevo direi i tuoi compagni di squadra in un secondo li fanno fuori ora vi faccio vedere gli ho ordinato gli ho dato il colpo sincronizzato da fare vediamo ora però non ho l'ordine del colpo io ho già disattivato agli allarmi quindi non ci dovrebbero scoprire io ho già disattivato agli allarmi quindi in teoria non ci dovrebbero scoprire cazzo mi stava per vedere uno quello si è accorto dei cadavere mi sa ora lo faccio fuori ci riesco è ritornato dentro c'è un altro qua però ok uno c'è un arco dove c'è il terrapieno c'è un altro qua ok ragazzi ho dato un altro colpo sentronizzato con i compagni di squadra diamogli il terzo quando sono pronti li faccio fare fuori tutti e tre insieme contemporaneamente in questo gioco devi sfruttare la tattica la pianificazione proprio in modo davvero preciso devi giocare totalmente steato questo gioco mi piace un botto per questo allora vediamo se si stabilizza il secondo ci sono No, parlando dei loro dubbi su parte, non mi sembra che si può sentire da noi, e anche rispetto a una nuova e terra, questa cosa non è un pronto di più, da un nuovo rinforzo, noi insegniamo al rispetto per Macia Mama i geni vigni, e noi insegniamo anche i geni. Macia Mama deve rimanere in equilibrio e anonia con il cross. E da per questo, visuale sul bersaglio persa. Dai, riguardo, riguardo. Allora arriva il treno. ... 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 facciamolo saltare perfetto e il secondo è andato alla grande mi scuso ragazzi se il video sta avvenendo troppo lungo solo che purtroppo a giocare in maniera stealth e a fare pianificazioni non viene per forza lungo il video ma poi questo è un gioco che merita quindi anche per questo faccio video lunghi non tutti naturalmente carica innescata e in posizione perfetto 4 su 5 alla grande ne manca solo uno ragazzi mi manca solo uno dovrebbe essere questo carica innescata perfetto andiamo belli lontani l'emissario dovrà tirare fuori la testa dalla sabbia non avrà più un'operazione da dirigere se il piano è quello ok ricarichiamo le munizioni perfetto ragazzi il video finisce qua è stato anche troppo lungo ho giocato totalmente in maniera stealth con tattica a go go con veramente pianificazioni e devo dire che ci sono riuscito mi sono divertito molto a giocare in questo modo questo gioco ha un approccio furtivo veramente spettacolare e pauroso spero che il video vi sia piaciuto mi scuso ancora per la lunghezza del video se siete arrivati fino a qua vuol dire che l'avete visto tutto e ragazzi io come al solito vi ringrazio per essere stati in mia compagnia vi ricordo di lasciare like al video condividerlo con i vostri amici appassionati di costrego sui social network condividete questo video su facebook su twitter e su tutti i social network infine commentate e iscrivetevi al mio canale così da non perdere i prossimi video di costrego insomma se ancora non siete iscritti iscrivetevi e poi inoltre vi ricordo di seguirmi anche su tutti i social network su facebook su twitter su luto media lascio tutti i link in descrizione quindi poi date un'occhiata alla descrizione del video inoltre ragazzi vi ricordo anche di lasciare un sacco di like per questa nuova serie di costrego worldlands che merita veramente un sacco e ragazzi detto questo noi ci vediamo ad un prossimo video bella ragazzi ciao bella ghost buon game a tutti ciao